Questo video rischia di diventare un po' atipico rispetto al solito perché oggi avevo previsto di girare qualcosa di completamente diverso ma questa mattina sono stato chiamato da un'azienda mia abituale cliente che mi avvisava che improvvisamente da alcune ore il server era diventato lentissimo. Sono andato a verificare la situazione e ho trovato qualcosa di molto strano. Mi sono accorto infatti che non c'erano processi in atto particolari o programmi aperti sul server che giustificassero il rallentamento e quindi tutto questo spreco di risorse di sistema così ho deciso di fare una scansione con il loro antivirus. Per inciso loro usano Avast. Ho fatto questa scansione approfondita con Avast che è durata anche un bel po' ma alla fine si è risolta assolutamente con un nulla di fatto. Allora ho tirato fuori dalla tasca il mio attrezzo segreto e a questo punto ho pensato abbiamo fatto tanti video sulla sicurezza su come mettere gli antivirus gli antimalware ma non ho mai spiegato bene come muoversi e come procedere nel momento in cui si vuole eliminare un virus oppure si vuole essere assolutamente certi che il computer non sia infetto. Beh io porto sempre sulle mie pennette un programmino che in realtà è uno script che fa una serie di operazioni cioè installa temporaneamente una serie di software tra cui antimalware antivirus software di manutenzione e fa un controllo estremamente approfondito e sistematico dell'intera macchina in modo che nessun virus e ti dico letteralmente nessun virus abbia modo di sfuggire a tutti questi controlli che sarebbe quasi impossibile per un utente fare da solo e che vengono invece fatti tutti quanti in automatico e eradicano non solo qualsiasi minaccia ma alla fine lasciano anche il computer pulito e ottimizzato. Beh a questo punto sono certo che vorrei sapere di che cosa si tratta però prima di cominciare ti avviso di vedere il video fino in fondo soprattutto perché le note che ti dirò alla fine saranno molto ma molto importanti. Allora ti senti pronto? Iniziamo! Ed eccoci qui! Come sempre prima di iniziare avremo bisogno di procurarci il nostro materiale di lavoro. Allora come sempre andiamo sul nostro browser di fiducia, andiamo sul motore di ricerca che preferiamo e digitiamo Tron Fights for the User. Il primo risultato è quello che ci interessa. Quindi clicchiamo sulla voce Tron Fights for the Users meno Reddit e sulla pagina che ci si apre andremo a fare clic sul primo risultato. Nel mio caso si chiama Tron V1205 ed è del 2 febbraio del 2023. Oggi mentre sto registrando è il 16 febbraio quindi come puoi vedere questo script viene aggiornato molto frequentemente e naturalmente la data che tu potrai trovare potrà essere diversa e quindi una data più recente rispetto a questa. L'importante è che tu clicchi sempre e solo sulla versione che si trova più in alto, quella che dice Fissato dai Moderatori. Facciamo un bel clic e scendiamo un po' nella pagina che ci si apre. Eccoci qui! Alla voce Download andrei piuttosto ad utilizzare il metodo secondario e farei clic sul link ufficiale, quello che vedi che sto cliccando io. Ci si apre quest'altra pagina dove andremo a scaricare il file che termina con .exe e quello che ci interessa. Questo file come vedrai è piuttosto corposo, questa versione è grossa infatti 504 megabyte e ci vorrà un minutino per scaricarla. Quindi attendiamo pazientemente la fine del download. Ed ecco fatto! Quello che ti consiglio di fare a questo punto anziché lanciare direttamente il programma nella cartella in cui lo hai scaricato è di prendere il programma e spostarlo sul desktop. Quindi faccio clic su Mostra nella cartella, chiudo il browser e sposto il file Tron12.05 direttamente sul desktop. Chiudiamo la cartella e lanciamo finalmente il nostro file. Dopo una breve installazione vedremo comparire sul nostro desktop due cartelle. Aspettiamo che si chiuda la finestrella dello script ed andiamo ad aprire la cartella che si chiama Tron. In questa cartella troveremo quattro file tra cui uno che si chiama appunto Tron. Quello che dobbiamo fare è cliccare con il pulsante destro e scegliere la voce Esegui come amministratore. Se avrai seguito le istruzioni che ti ho dato nel video precedente, naturalmente ti verrà richiesto di inserire anche la password dell'account amministrativo. Sulla macchina invece in cui sto lavorando io in questo momento esiste un unico account, quindi mi comparirà semplicemente la schermata del controllo dell'account utente. Facciamo clic su Sì, possiamo chiudere la cartella e attendere alcuni secondi. Quella che ci compare adesso è una richiesta di autorizzare Tron ad effettuare una serie di installazioni e di controlli che tra un po' ci verranno spiegati sul nostro computer. Per accettare, come possiamo vedere, dovremo scrivere per esplicito I agree, cioè io sono d'accordo, nella riga che si chiama response. Quindi inseriamo le lettere maiuscole e scriviamo I agree. Premiamo il tasto invio. Quello che Tron ci spiega in questo momento è che la procedura di pulizia si articola in otto passi. Il primo passo consiste nella pulizia dei file temporanei. Questo perché? Perché spesso nelle cartelle dei file temporanei si vanno ad annidare alcuni file che servono appunto all'esecuzione di virus e malware di valio genere. Di preciso che comunque è una procedura vantaggiosa anche da un altro punto di vista perché va a liberare un pochino di spazio sul nostro computer. La seconda fase si chiama de-bloat. Vengono eliminati alcuni software che sono i cosiddetti bloatware, anche detti con una parola non molto gentile in inglese, i crapware, cioè dei software inutili nel nostro computer. Naturalmente non verrà cancellato niente di quello che noi utilizziamo normalmente. La terza fase è quella di disinfezione, in cui grazie ad una serie di strumenti che verranno temporaneamente installati e poi rimossi dal nostro computer viene appunto effettuata la vera pulizia da virus e malware. La quarta fase è quella di riparazione, in cui vengono riparati eventuali danni fatti dai virus. La quinta fase è quella di patching, in cui verranno installate una serie di patch, cioè di aggiornamenti, che servono ad impedire che il nostro computer si infetti nuovamente con quei virus. La sesta fase è un'ottimizzazione, questo è già un regalo che ci fa Tron, per cui va automaticamente ad ottimizzare tutto quanto quello che c'è sul nostro computer. La settima fase la chiamano wrap-up, incartare, è quella in cui vengono scritti appunto i log, che sarebbero i registri, e i rapporti, se vengono richiesti, di quello che il programma ha fatto, in modo da darci pieno controllo su quelle che sono state le attività svolte sul nostro computer. E l'ottava è una fase in cui i più avanzati potranno inserire nello script ulteriori operazioni che gradiscono che vengano fatte sui loro computer, ma che nel nostro caso non saranno effettuate. A questo punto, per continuare, ci basta premere un tasto. La prima cosa che fa il programma, come possiamo vedere, è creare un punto di ripristino del sistema. Dopodiché, adesso parte con tutte le sue operazioni. Come vedi, talvolta questo programma ci chiede di autorizzare il download di alcune funzionalità. Possiamo sempre fare clic su Scarica e Installa. Terminate queste operazioni, è sempre necessario l'intervento manuale, e quindi facciamo clic su Chiudi. Come ci dice lo stesso Tron, Tron non è bloccato a questo punto, è solo che questa particolare operazione richiede un tempo piuttosto lungo. Attenzione, le operazioni che compie Tron sul nostro computer possono durare, nei casi di computer più lenti o di problemi più gravi, per esperienza anche 4-6 ore. E come puoi vedere, è Tron stesso ad avviare il Malwarebyte a un certo punto e chiederci di essere noi a cliccare sul pulsante scansione. Facciamolo e attendiamo, come sempre, il termine dell'operazione. E come puoi vedere, Malwarebyte, come al solito, è riuscito a trovare anche le due chiavi di registro che avevo nascosto per vedere se Tron funzionava in questa difficile rilevazione. A questo punto, comunque, clicchiamo su Quarantena e clicchiamo su Fatto per far procedere le operazioni di Tron. Chiudiamo Malwarebytes e aspettiamo. Ed ecco fatto, la nostra pazienza è stata premiata. Questa schermata verde ci informa che Tron ha finito il suo lavoro e che, soprattutto, non sono risultati ulteriori warnings, ulteriori avvertimenti e che ci sarà un log, cioè un registro di tutte le attività che Tron ha fatto sul nostro disco C, cartella Logs, sottocartella Tron, in un file che si chiama Tron.log. Possiamo andare anche a vederlo, se vogliamo, su questo PC, Disco C, Logs, Tron e aprire il file, appunto, Tron.log. Ti dico, è una cosa un po' da addetti ai lavori, ma comunque ti puoi fare un'idea delle operazioni che sono state fatte sulla tua macchina e soprattutto puoi tenerlo da parte per verificare in caso di problemi anche se io, sinceramente, non ne ho mai avuti con questo programma se ci sia qualcosa che non va. Quello che ti interessa comunque fare a questo punto è tenerlo magari da parte, questo log tornare sulla finestra di Tron, premere un tasto per chiuderla e, come consiglio, subito dopo aver utilizzato Tron, riavvia sempre il sistema. E, come dicevo in apertura, alcune note davvero importanti. La prima cosa che devi tenere bene a mente nel momento in cui decidi di utilizzare Tron è, se non l'avessi ripetuto abbastanza, che le operazioni sono davvero lunghe a volte estenuanti. La raccomandazione è di non perdere mai la pazienza di non interrompere mai il funzionamento del programma perché non puoi sapere in che momento lo stai interrompendo e che, certe volte, anche se il programma può sembrarti bloccato rimanere calmo perché nel 90% dei casi sta semplicemente lavorando. La seconda cosa che devi tenere a mente è che Tron non lavora nello stesso modo su macchine diverse. Le operazioni che fa all'inizio sono delle operazioni di analisi della macchina in cui non solo verifica l'hardware della macchina, cioè tutta la componentistica che c'è installata sul tuo sistema, ma verifica anche il software, cioè tutti quanti i programmi che ci sono e lui si ottimizza di conseguenza. Infine, le operazioni possono variare di durata da macchina a macchina naturalmente sulla base di quanto è performante l'hardware della macchina stessa. Quindi è logico che su macchine più veloci Tron sarà molto più veloce. Su macchine più lente ci metterà un pochino più di tempo. In ogni caso, come ho detto in apertura del video, questo è un programma comunque da scaricare e tenere veramente come faccio io in tasca su un pendrive pronto all'uso perché più di una volta mi ha cavato di impaccio di fronte a macchine che erano letteralmente inchiodate da qualche virus o da qualche malware. è sempre riuscito a risollevare la situazione anche perché utilizza una pluralità di antivirus contemporaneamente, un po' come fa VirusTotal quando noi inviamo un file da scannerizzare e ci restituisce sempre la macchina pulita e in perfette condizioni. Detto questo, come sempre, non mi resta che salutarti e darti appuntamento. Alla prossima!